Il punto sulla Serie A Ennesimo weekend di passione Io questo fine di campionato lo sto vivendo malissimo Malissimo Perché c'è ancora la speranza C'è ancora questa corsa Champions così dannatamente angosciante Che comprende 840 squadre che sognano, sperano Ma poi come andrà a finire non lo so Allora, tratto un po' di discorsi vari Iniziamo parlando dell'Inter, vincitrice del campionato Non abbiamo mai parlato di questa cosa in questi giorni Della cosa in altra Il delirio ci ha portato lontani Ragazzi, io se non sbaglio l'avevo detto nelle previsioni di questo campionato Che l'Inter avrebbe vinto E credo fosse abbastanza facile da prevedere Inter che ha gestito questo campionato con una consapevolezza Pari a quella che ha avuto il Napoli l'anno scorso Forse un po' meno esplosiva in certi momenti Ma più costante se vogliamo Un Inter che ha meritato il campionato C'è poco da dire ragazzi Di che ci mettiamo a discutere? Squadra assolutamente completa Complessivamente la più forte se andiamo a guardare i singoli Costruita bene Che io vuoi dire? Allenata benissimo Da un Inzaghi che ormai è in fase prime totale Onore a loro Buon per loro Insomma Speriamo che i campionati col tempo possano rendersi un po' più competitivi Però ragazzi Strapotere interista quest'anno innegabile Per cui La cosa buona La cosa buona È che adesso L'Inter Ricorderà la Lazio Bello pienotto Da tutta E si spera che Si riescano a rubare tre punti O anche uno solo Che sarebbe una mana d'arcelo L'Inter in corsa per il campionato Non la batti mai In questa fase L'Inter Ha pagata Magari sì Però potrebbe pure essere peggio Perché potrebbero giocare con la libertà mentale Comunque L'Inter che In questo weekend Ha vinto pure Cortorino 2-0 Non l'ho vista però Il risultato è abbastanza rotondo E quindi Ci fermiamo sul discorso vittorale del campionato Poi Stanno a discutere Record dei punti Ma che Cazzarola I record dei punti Vabbè Ce l'avessimo noi sti problemi Vero ragazzi Allora Andiamo oltre Primo Primo Anzi secondo Momento definitivo Di questo campionato La Sernitana Va ufficialmente in Serie B A fine anno Era Era drammaticamente prevedibile Noi abbiamo Noi in Laziale abbiamo provato In tutti i modi A dargli speranza Con quei tre punti all'andata Che abbiamo veramente Se io ci ripensa A quei tre punti all'andata Vorrei magnammer il microfono Con tutto il ferro che ci sta Ma Sernitana È una squadra Che ha vissuto momenti di Posso dire una cosa Io credo che la Sernitana Non fosse la squadra peggiore Di questo campionato Guardando Guardando i singoli Non è una squadra Tale Da meritare Di fare Quindici punti In trentaquattro partite Però È stata vittima Di una serie di situazioni Sfortunate 800 cambi D'allenatore Andò così E Nella settimana appunto In cui In cui c'è stato Questo Definitivo risultato Perdono Col 3 a 0 Col Frosinone Frosinone che teoricamente Si tira un po' fuori Dalla zona Calda Ma Non del tutto A trentuno punti Adesso La terza Ultima piazza Occupata Dall'Udinese A 29 Udinese Che peraltro Ha perso La partita con la Roma Il piccolo recupero Che hanno fatto Dopo la questione indica Meno male che Si è risolta A migliore dei modi Tra l'altro Quella storia lì Che lui si è tornato a giocare Però appunto Udinese Che si è andato a impelagare Con quella sconfitta Al novantesimo Roma Che ha tanti punti in comune Con l'Evercuse Devo dire In questo periodo Vincono O meglio Si salvano Sempre un po' in estremi Anche appunto Parliamo subito Di Napoli-Roma Napoli-Roma Partita Partita Tosta Questa l'ho vista Devo dire Ieri Secondo tempo Quanto meno E È stata È stata una partita Ricca di colpi di scena Perché Prima Sull'1-1 Appunto Il rigore poi Per Per il Napoli Sembrava fatta Invece poi la Roma Riesce sempre a dare Quel guizzo Sul finale Quindi ha l'acchiappato Questo 2-2 Un risultato Che serve tantissimo Alla Roma E che a Napoli Non serve assolutamente A nulla Perché con questo punticino La Roma va a occupare La quinta piazza Da sola A 59 Aspettando l'Atalanta Che deve recuperare Una partita Che sta a 57 Mentre Napoli Io intendo anche L'Europa League Per l'Europa Maggiore Ed è un peccato Ragazzi È veramente un peccato Perché il Napoli Squadra meravigliosa Con dei singoli Straordinari Io il Napoli Non lo vedo spesso Per ogni volta Che lo vedo Ragazzi C'è C'è Usi Man Che è qualcosa Di C'è Ieri Senza svilare Giocatore fantastico Portiere eccezionale Io ecco Domanda Anzi Senza svilare Ieri il Napoli Avrebbe forse Stravinto la partita E questo ci porta a parlare Sapete Vado da una cosa all'altra Di Di come sia stato possibile Che Rui Patrizio Abbia giocato titolare Per praticamente Tutto l'anno A Roma Non si sa Però Diciamo Che cosvilar Forse a Roma Sarebbe già in pantofole Se avessero fatto Tutta la stagione Cosvilar Con la Champions Ormai in cassaforte Invece Non è ancora detta L'ultima parola Anche perché L'Atalanta non molla Niente non molla Hanno vinto ancora Con l'Empoli Condannando l'Empoli A vivere Quest'ultimo periodo Di campionato Con l'Angoscia Perché pure l'Empoli Sta a 31 punti Atalanta in questo momento Appunto Sta a 57 Quindi potenzialmente A 60 Nel recupero Con la Fiorentina Ma Stanno sempre lì Stanno sempre lì Ragazzi Colpo su colpo Fino a fine campionato Sta Champions Non si definisce E L'unica tranquilla Secondo me È il Bologna 1-1 Con l'Udinese 63 punti Comodi Comodi Ci vorrebbe tipo L'Apocalisse Perché il Bologna Perdesse la Champions Se devo dire che Se meritano veramente D'andarci Ragazzi Bologna quest'anno Ha saputo Dimostrare Di essere squadra Tiago Motta Ha fatto un miracolo sportivo Lui si Siamo a parlare Di miracolo Perché il Bologna Champions Non l'avrebbe Preventivato Nessuno Nessuno Mai nella vita Però Non è che Non è che Eh beh Però No Il Bologna Se l'ha meritata Dall'inizio Alla fine Hanno vinto un sacco Di scontri diretti Hanno vinto un sacco Di partite Bene Cioè Squadra Veramente Sarà interessante Vedere che tipo di mercato Farà il Bologna In relazione al Al piazzamento Champions Perché lì sarà bello Vedere se Si avvieranno A un progetto Di crescita Progressiva Mantenendo i più forti E rafforzandosi Oppure no Spero di sì Per i tifosi del Bologna Che insomma Hanno avuto anni Poco entusiasmati Adesso potrebbero Effettivamente Ritrovare un po' di No Di soddisfazioni Glielo auguriamo Poi 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 Di che dobbiamo parlare Fiorentina Sassuolo 5 a 1 Sassuolo quest'anno Irriconoscibile Non che abbia mai fatto No Però Mi ricordo che c'è stato un periodo In cui Sassuolo Era Posizioni medio alte No Si pensava Che piano piano Eh Sassuolo quest'anno In una forma Veramente Inconcepibile 26 punti La B A un passo Serve un miracolo Che non so Se troveranno Perché poi Nelle ultime 4 È dura Perché poi Le gambe sono pesanti Diventa Diventa complesso Però Fiorentina Che è lì La Fiorentina Spinge 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 Io Non la darei per morta Minimamente Anche perché la Fiorentina Se dovesse Ipoteticamente Vincere il confronto Con l'Atalanta Sarebbe a 53 Per cui sta lì Di insonnia Guardatevi la replica Di Juve Milan La partita Clamorosamente Soporifera Che Tra due squadre Che hanno tantissimo Da chiedere a questo Campionato ormai E quindi Mamma mia Io Confesso di aver ceduto Durante Juve Milan Ci ho avuto Quei 20 minuti Che sono svenuto Un attimo Mamma mia Cioè No Proprio Proprio Vabbè Però Anche lì Raga è inevitabile Cioè due squadre Che ormai Veramente Non hanno più niente Da chiedere A questo campionato Sì Il secondo Il terzo posto Più che altro Ecco Forse più la Juve Che avrebbe potuto Provare Per tenere lontano Bologna Per un discorso Di Di classifica Però Mentre il Milan Sta a 70 punti Pancia piena Proprio sai che Vordino Gliene può fregare De meno ormai Quindi Sanno lì tranquilli Che galleggiano Fanno Fanno Quando sta in piscina Sua paperella Ecco Io mi immagino Il Milan così In questo periodo Che poi Beati loro Ecco Vorrei vederle io Le partite Con questo tipo Di abbiocco Tant'è che Chiudiamo Con Lazio Verona Di cui abbiamo parlato E che Mi introduce L'argomento finale Cioè il discorso Champions Come ho detto Nel video Post partita Di Lazio Verona Il discorso Champions Ragazzi È dura Perché Io Da Laziale Ci voglio credere Ancora Nel senso Non me lo aspetto Che si riesca Nel miracolo Ma mi rendo conto Che matematicamente È possibile Se guardi il calendario Lo è ancora di più E quindi Ci spero Ma non ci credo Granché Ecco Ci spero Ma non ci credo Però Obiettivamente Ragazzi Le due squadre Che meriterebbero Maggiormente Sta Champions Sua Bologna Adalanta Ora Senza Voler fare Il discorso Di antipatia E simpatia Perché Ah non è Vista La Roma Per cazzare D'Alasio No ragazzi Perché obiettivamente Se non meriterebbe Più l'Atalanta Più che altro Perché sia Lazio che Roma Sono state Vittime Di un inizio Di campionato Buona parte Di campionato Veramente Sotto tono E poi Si sono riprese Con il rispettivo Cambio di allenatore La Roma Di De Rossi Avesse iniziato De Rossi Con questo ritmo A Roma Stava All'ottava Per il secondo posto Probabilmente Stesso discorso All'Asio di Tutor Ragazzi All'Asio di Tutor Se avessimo Giocato così Tutto il campionato Stavamo perlomeno A 60 punti Tranquilli adesso Perché De certo Le prime tre Non le perdevi Mi sono rimaste qua Non riesco A darmi pace Io più ci penso Vabbè Però Ripeto La Laf ha un calendario Estamente favorevole L'unica incognita È l'Inter Alla Penultima Se non sbaglio Per carità Però Se uno ipotizza Anche solamente 9 Ti metti a fare Da belle pure io Se ti metti A fare 9 punti Su 12 Ipoteticamente Vai a 64 64 Roma e Atalanta Ci hanno Beh ha di loro Beh ha di loro Ci hanno le semifinali Di Europa League Qualcosa La consumeranno In quelle partite E quindi Sei No Naturalmente Presisposto A credere Nel miracolo Lo sei Perché entrambi Dovranno Poi tra l'altro Hanno lo scontro Diretto Fra di loro E quindi Una delle due Ipoteticamente Si farà da parte La Roma La Roma La Juventus Che anche lì La Juventus Capete come si presenta L'Atalanta Non mi ricordo Chi c'è Ma mi sembra Che non abbia Partite impegnative A parte la Roma Però È il discorso Del post Europa Non lo so Ragazzi Non lo so Però ecco Diciamo che Il pareggio Della Roma A Napoli Mi ha fatto Mi ha fatto Mi ha fatto pensare Che forse Non è così Impossibile Compiere il miracolo Non lo so Non lo so Però ripeto Come ho detto nel video La Lazio come giocatori Non se la meriterebbe Sta Champions Noi tifosi Si Però se la meriterebbero Pure i tifosi Della Roma Sta Champions Così come quelli Della Lanta Cioè Se la mettiamo Su un punto di vista Di tifo La meriteremmo tutti Qualsiasi squadra Meriterebbe Di andare in Champions Però ripeto Vedremo che cosa succederà Ragazzi miei Questo è quanto La nostra chiacchierata Del lunedì L'abbiamo fatta Attendo vostri Pareri Pensieri Riflessioni Sempre in serenità Sfottiamoci Quanto vi pare Ma rimanendo sempre tranquilli Che è un po' Il fil rouge Che lega Tutto quello Che cerco di fare qui Però ecco Diciamo che si prospetta Una settimana Molto ricca E lunedì prossimo Spero di venire qui A parlare Con gran sorriso Eh Sarebbe bello Sarebbe bello Vediamo se succederà Ma tanto Non succederà E quindi Vabbè Ragazzi Sempre forse alassio Che male non fa E noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima